Il Comitato Sagra del Pesce organizza la Sagra del Pesce 2016, lunedì 8 agosto, ore 21, quarta aumentata in concerto, martedì 9 agosto, ore 21, degustazione gratuita di specialità marinare e locali, ore 22, Ferragonia in concerto, in collaborazione con Provincia, Regione Calabria, Radio Studio 95, Merito TV, Tele Bova Marina.